buongiorno buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale di ridden riders oggi facciamo un'uscita molto particolare perché io e il dottor zucco andiamo a verificare un percorso qui di adesso lo raggiungo al bar colazione punto della situazione e poi parte eccoci qui ragazzi è arrivato anche il dottor zucco stiamo arrivando nella parte divertente della traccia pian pianino e adesso vediamo un po cosa ci troveremo davanti ti prego farà di qua vai un po davanti tu vai gianne senza paura comunque ragazzi l'unico essere umano a riuscire a gestire il fango con l'str c'è tanto fango io fossi in te prenderei dove cazzo capita capita perché tanto speriamo non passi un altro bambi proprio adesso occio qua ci sta benissimo a tokyo drift si eccola eccola mamma mia cosa significa essere alto un metro e otta un metro un metro e novanti non ci si ferma mai davanti al fango siamo nel punto fangoso dove bisogna stare attenti adesso ho incaricato gian di scattare qualche foto vediamo se riusciamo a farla ok allora abbiamo fatto il pezzo fangoso stupide gambe corte adesso ripartiamo cazzo di sensore devo escludere questo cavo qua allora adesso mi devo andare a guardare casco e vestemmiare sensore del cavalletto no no quelle vecchie si accende quando lasci la frizione spegne lo potrei risolvere tranquillamente collegando questi due fili ma non ho ah no aspetta forse posso aspetta proviamo a vedere vediamo se funziona che belle le moto anni novanta che belle le moto anni novanta alla lì ok allora cavallottato quello questo lo appoggio dentro tu non cadere per favore facciamo questa manovra da show anni 80 vabbè ma il bello nelle moto anni novanta è anche questo che è un problema si risolve abbastanza facilmente finchè non ti esplode il motore ma è abbastanza sereno siamo arrivati al punto della discesina prima jean stavolta faccio lo stesso approccio dell'altra provo il lato destro però si vede che stiamo andando incontro alla bella stagione perché si sta asciugando sempre più in fretta oh finalmente un po di pista scorrevole il pango è bello è divertente ma ha piccole dosi non sono proprio convintissimo sai e 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 ma da dove arriva loro no no ma va buon giro allora gian ha perso lo zumo quindi adesso torno indietro per vedere di trovarlo insieme a lui niente niente come cazzo si chiama la transenna l'abbiamo già passata si è giù la transenna allora è dopo la transenna cercare di vedere se riesce a capire dove è e per l'ultimo video e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti.